benvenuti benvenuti spazio pomeridiana trasmissione che venò da tutti i pomeriggi alle 14 su delta tv oggi puntata speciale buongiorno a michele emiliano sindaco di bari benvenuto grazie è una trasmissione che venò da in contemporanea quest'oggi sull'altra radio e siamo ovviamente anche in collegamento con delta tv intanto benvenuto nei nostri studi io da stamattina ho lanciato nella trasmissione del mattino la presenza di michele emiliano qui con noi alle 14 devo dire sono già arrivate tante tante telefonate tanti contatti ovviamente è possibile intervenire in diretta subito 085 24 04 24 questo è il nostro numero oppure anche inviare dei messaggi al 334 38 37 444 siamo a vostra disposizione soprattutto michele emiliano è a vostra disposizione io devo io posso fare poco posso solo interloquire con lui stamattina partiamo da questo argomento ci ha chiamato una commerciante barese in lacrime e mi ha pregato di aprire la trasmissione rivolgendo al sindaco un appello insomma bisogna dare una mano ai cittadini baresi che sono in difficoltà e soprattutto i commercianti molti come non tutti per la verità molti commercianti baresi hanno grosse difficoltà spesso si finisce diciamolo nel giro anche dell'usura e dei prestiti e è un momento difficile so che ne parlavo anche stamattina con ludovico abbaticchio si fa tanto però però beh innanzitutto ci sono vari livelli diciamo del problema c'è il livello base che è quello degli homeless dei senza fissa dimora per ragioni economiche gente che non ha più né casa né famiglia e che è abbandonata da tutto e da tutti e su quelli abbiamo fatto un lavoro in questi cinque anni molto importante noi siamo partiti da farli dormire nei vagoni ferroviari quindi da zero posti letto e zero mense c'era solo un servizio di strada che veniva assicurato da volontari adesso noi abbiamo circa 300 posti letto e 300 posti mensa per gestire questa prima emergenza poi c'è il problema più grave probabilmente c'è di quel ceto medio di commercianti impiegati liberi professionisti perché questo problema riguarda anche commercialisti avvocati che hanno visto nel pochissimi anni scendere il loro fatturato in maniera verticale perché questo paese aveva vissuto per moltissimi anni al di sopra delle proprie possibilità e adesso ha avuto un crollo verticale sono 15 anni lo dico senza polemica che questo paese non è governato né quando c'erano i governi di centrosinistra né quando c'erano i governi centrodestra nessuno soprattutto nella classe dirigente nel chi fa politica riesce a capire fino in fondo forse fatta esclusione per i sindaci che ovviamente si trovano queste persone spesso nel portone del comune ma nessuno si rende veramente conto dei drammi di che cosa significa avere la bolletta della luce in mano e avere il disonore di non poterla pagare perché non è solo una questione economica perché se questa gente potesse sopravvivere diciamo così anche nella maniera più sobria possibile ma potendo fare onore al proprio nome alla propria famiglia ai propri parenti ai propri figli penso che si accontenterebbe anche di mangiare un panino il problema è che molto spesso alla situazione di disagio si associa anche diciamo questa deprivazione del nome il nome per le persone è in molti casi l'unico bene del quale si dispone per esempio io stesso ricordo ancora quando mio nonno mi diceva Michele l'unica cosa che ti possiamo dare a te è un nome onorato quindi per favore mantienitelo così perché se tu te lo giochi questo nome comportandoti male sarà difficile che qualcuno possa rimetterlo insieme perché ci vogliono generazioni a mettere insieme un nome e molto spesso il nome può essere travolto non solo da errori diciamo di tipo giudiziario o personale ma anche da disavventure economiche perché siamo abituati a giudicare rapidamente ora sulla questione del commercio noi ovviamente abbiamo difficoltà alle volte ad aiutare imprenditori privati perché non è che possiamo dare aiuti sarebbe contro il trattato di Maastricht diciamo sulla concorrenza ma non è questo il punto non è neanche facile immaginare come sostenere queste piccole imprese stiamo facendo questo tipo di lavoro sperando che funzioni stiamo cercando di organizzare i cosiddetti centri commerciali naturali stiamo organizzando circa 6-7 consorzi delle grandi aree commerciali della città in modo tale da poterle promuovere, organizzare, far funzionare come se fossero dei centri commerciali significa dotarli di un servizio di recapito dei pacchi a casa dotarli di un sistema di trasporto, di sorveglianza fare della promozione, questo può interessare anche i media poter pubblicizzare non solo il singolo negozio oggi probabilmente non si possono permettere uno spot radiofonico o televisivo che riguardi solo un negozio però si può pubblicizzare un'aria venite a fare la spesa a libertà venite a fare la spesa in via Sparano e questo lavoro è quasi alterno non se ne sta occupando l'assessore Franco Albore ecco, comunque resta questa emergenza sociale sono sempre di più i baresi che purtroppo hanno difficoltà ad arrivare a fine mese e su questo chiaramente credo sia una politica nazionale che deve cambiare nei confronti dei cittadini noi abbiamo ancora oggi più di mille deputati ogni deputato ha uno stipendio di rimborsi spesa che alla fine costano all'Italia quattro volte lo stipendio del sindaco di Roma cioè il sindaco di Roma che guadagna quanto il sindaco di Bari o il sindaco di Milano guadagna quattro volte meno un deputato e guadagna tre volte meno un consigliere regionale e per esempio in Puglia avevamo promesso tutti quanti di diminuire il numero dei consiglieri regionali non l'abbiamo ancora fatto quindi non servirebbe a nulla diciamo la verità dal punto di vista economico è una goccia nell'oceano però quando si deve soffrire se si soffre insieme chi sta già soffrendo ha maggiore capacità di resistenza ecco, per il momento l'unico taglio che si è fatto è stato sui gettoni dei consiglieri circoscrizionali no neanche perché sono stati così bravi a premere sul governo i consiglieri circoscrizionali che sono riusciti a fare un miraggio no no li hanno ripresi ma con un meccanismo straordinario cioè il governo ci ha tagliato i soldi per pagare i consiglieri circoscrizionali dopodiché soprattutto Antonio Di Staso e Raffaele Fitto si sono impegnati moltissimo per restituire i consiglieri circoscrizionali il gettone che è stato restituito ma a spese dei comuni cioè i soldi non ci sono stati restituiti un colpo da maestro parliamo di città lagata purtroppo arrivi il giorno dopo una di quelle piogge pazzesche noi abbiamo un grosso problema bisogna rifare tutta la rete immagino fognare forse l'avremmo dovuta fare quando abbiamo fondato la città credo che la nostra rete risalga all'epoca fascista o meno beh praticamente a Bari la fognabianca non esiste cioè non esistono condotte di fognatura bianca abbiamo un sistema in qualche quartiere dove la fogna nera e la fogna bianca corrono assieme e comunque sono solo pochissimi pezzi della città ovviamente noi per la prima volta la mia amministrazione con 700 mila euro quindi una bazzecola ha fatto il primo progetto con la regione Puglia per mettere insieme almeno il progetto per rifare le foglie di Bari perché fino ad oggi, fino al 2007 quando noi abbiamo fatto questo progetto non c'era neanche il progetto delle fogne adesso abbiamo un progetto ci vogliono diciamo facciamo 300 milioni di euro 300 milioni di euro è la metà del bilancio di Bari di quest'anno e come dobbiamo fare? niente, dobbiamo asciugare con la pezza vabbè c'è Donatella da Bari che ci invia questo acquisito signor sindaco si è mai fatto un giro alle fermate degli autobus di Piazza Moro di sera è uno schifo l'illuminazione è ridicola se ne rende conto quando potremo avere la luce in quel punto Donatella da Bari Bari è la città italiana più illuminata anche troppo perché addirittura abbiamo preso un impegno all'illuminarla di meno per consumare meno perché l'illuminazione stradale costa tantissimo quindi evidentemente la signora si è spaventata in qualche luogo buio di Piazza Roma io sinceramente non conosco la situazione e in tutta sincerità non mi pare che l'illuminazione di Piazza Roma sia scarsa probabilmente ci sono degli angoli lì ci sono degli alberi molto importanti soprattutto la fermata degli autobus c'è la stazione, ci sono gli autobus e poi ci sono degli alberi giganteschi sotto quegli alberi obiettivamente la luce non è tanta però ripeto la tendenza di tutte le città è a diminuire l'illuminazione anche perché l'illuminazione provoca non solo uno spreco energetico enorme ma un cosiddetto inquinamento luminoso la prospettiva del futuro è abbassare le luci addirittura il nostro astronauta che in questo momento è su una stazione orbitale europea adesso non ricordo come si chiama ha fatto delle fotografie all'Italia dal cielo durante la notte sembra una pizza in cottura per quanta energia elettrica viene sprecata ogni notte dalla illuminazione urbana e questo ovviamente fa felice l'Enel e l'Eni che vendono l'energia elettrica molto meno felici i comuni che sprecano milioni e milioni di euro per illuminare la città certo la luce fa piacere a tutti dà la sensazione di sicurezza però tutti i cittadini devono sapere che il comune è come casa o hai la botte piena o hai la moglie ubriaca anche a casa è bello tenere tutto acceso però poi è da pagare la bolletta a proposito di questo ma sai che i cittadini non hanno ancora questa cognizione io ho portato con me oggi mio figlio Giovanni che saluto ovviamente salutiamo ovviamente e ovviamente lui quando era piccolo quando voleva un giocattolo e lui mi è testimone e io gli dicevo guarda che papà non te lo puoi comprare questo giocattolo vediamo un po' beh è capitato parecchie volte perché questa è la condizione e lui gli diceva non ti preoccupare andiamo al banco Matt alle volte i cittadini i cittadini fanno esattamente così sono convinti che la luce il comune non la paga che i dipendenti non li pagano che i vigili urbani non li pagano è mandato un vigile e il suo va a pagare il vigile visto che nessuno più vuole pagare le tasse non tocchiamo il tasto vigile anzi nessuno può più pagarle quindi noi ci arrangiamo in città con lo stesso spirito di quello che si fa in ciascuna casa degli italiani col coltello in mezzo ai denti sì intanto arrivano anche messaggi io voglio ricordare che è possibile anche intervenire in diretta 080 524 0424 ciao Filippo sono un com condomino forse di via Principe Amedeo le navette che le navette di park and ride non passano perché le navette del park and ride non passano da via Manzoni proprio sotto a casa su non lo so così così ci scrive questa è la concezione alle volte di qualcuno cioè noi abbiamo dei servizi questi servizi ovviamente sono dei servizi ognuno di questi ha un costo se una navetta cambia itinerario e allunga di 10 minuti la percorrenza questa navetta non è più una navetta ma diventa una nave carico cargo cioè rallenta la percorrenza non è più quella necessaria da assicurare allunghiamo i tratti non tardiamo i tempi ogni navetta ogni navetta io sono un ragioniere perché Bari è la città con uno dei bilanci più solidi d'Italia perché io faccio il ragioniere sono figlio di ragioniere ma ogni navetta costa 250 mila euro all'anno che il costo del biglietto ovviamente non ripaga sono 500 milioni delle vecchie lire ovviamente ci possiamo permettere le navette che possiamo pagare grazie